L'incantevole cornice del teatro mediterraneo di Viceglie per la quinta finale regionale di Miss Cinema Puglia. La serata condotta da Serena Sguera, volto noto di Teleregione e padrona di casa del salotto Casa Serena, con Cristian Binetti ha incoronato Nicole Pentrelli, 21 anni di Toritto, che frequenta l'Accademia delle Belle Arti con specializzazione nel ramo cinema e fotografia. Nicole ha ricevuto in regalo un bellissimo gioiello Miluna, oltre ad aver indossato la corona da recinetta posta sul suo capo da Zeudi di Palma, la Miss Nazionale in Carica, assieme a Nancy Dell'Olio, ambasciatrice di Puglia, che ha presieduto la giuria composta dall'assessore all'ambiente Gianni Naglieri, da Riccardo Di Matteo, console onorario della Repubblica Ceca, da Leonora Pieroni, attrice top model, da Agostino Picicco, scrittore, giornalista e responsabile della comunicazione alla Cattolica di Milano, dal medico Cristina Palmiotto, da Ina Catino del club Unesco di Biceglie e dagli imprenditori Giussidente, Felice Gemiti e Vito Manzani. L'evento è stato organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi e patrocinato dal comune di Biceglie. La bellezza delle miss è stata impreziosita da Lena Petrucelli e il Stylist, punto di riferimento a Biceglie nel territorio, per qualità e professionalità. Hanno collaborato anche la sezione BAT della Liga Italiana Lotte e i Tumori, presieduta da Michele Cigniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, De Caro Caffè e Zingrillo.com